Oggi vi faccio vedere quanto è semplice preparare le patate arrosto a spicchi con Air Fryer XXL 5000 Series. Allora, io ho già tagliato le patate e ho già aggiunto il sale. Ora, prendete, le ho messe nel cestello quello grande, prendete, olè. Adesso vi faccio vedere dall'app come dovete fare. Innanzitutto cerchiamo patate, picchi, olè. Ora, qua mi dice che la ricetta è giusta per il mio elettronistico. Scendo, scendo. Qua è scritta la ricetta, come devo fare. Devo mettere dentro il cestello grande. Ora, la cosa più semplice da fare. I miei impostazioni e trascino su e comincia a cucinare. Come potete vedere, il timer è partito. Mi dice che sta cucendo a 160 gradi per 14 minuti. e adesso, praticamente, non mi resta che aspettare che il timer si azzeri. E poi vi faccio vedere il risultato. Conto alla rovescia! Olè! E cottura perfetta! Dopo che si è finito di usare, per levare il cestello e lavarlo, si tira giù questo, così, poi si pigia. Olè! Giustamente con due mani si fa prima. Ok. In questo modo potete metterlo sotto al lavello e lavarlo. Mi raccomando, attenzione non con la spugna abrasiva. Vieni per la intimità! Ciao! Grazie.